Vi è uno splendido intervento di Giovanni Gentile intitolato L'educazione della famiglia, che è poi il discorso da Gentile pronunziato al Terzo Congresso Nazionale delle Donne Italiane, il 4 maggio del 1923 al Salone degli Arazzi a Palazzo Venezia a Roma, e raccolto in questo importantissimo testo la riforma della scuola in Italia, che raccoglie poi alcuni degli interventi più importanti che hanno dato Vito, in cui si condensa l'essenza stessa della riforma della scuola del 1923 di Giovanni Gentile. Bene, in questo suo intervento, che mi pare particolarmente importante, Giovanni Gentile ragiona in maniera ultra-hegeliana sull'importanza della bildung, della formazione nella famiglia e poi nella scuola. Giovanni Gentile, cioè riprendendo il motivo hegeliano della sitlichkeit dell'eticità, svolge alcune considerazioni decisive sul passaggio che porta dalla famiglia alla società civile, trovando nella scuola il delicato momento d'innesto tra le due dimensioni, il delicato momento di transito dalla famiglia alla società civile. dice Gentile, la scuola è la continuazione naturale della famiglia. Prima sarà scuola materna, non per caso. L'idea è che in qualche modo sia una zona di transito tra famiglia e società civile. Nella scuola non si è ancora pieno nella società civile, ma si è già in una dimensione che non è più semplicemente quella della famiglia. E poi dopo la scuola materna la scuola privata, dice Gentile, la scuola privata intesa appunto come passaggio decisivo. La scuola materna è una scuola privata, può essere intesa anche così, in cui il bambino esce dalla famiglia e già passa all'ambito della scuola privata o scuola materna, che dir si voglia. Poi un po' alla volta, dice Gentile, il bambino cresce e la sua educazione diventa qualcosa che è gestito non solo più dalla famiglia, ma anche dallo Stato. Scrive Gentile, la scuola pubblica è il naturale sbocco dell'educazione domestica. Essa è naturalmente destinata perciò a portare innanzi quel processo di umanizzazione che si inizia i primi anni nella famiglia. Ecco, la scuola pubblica diventa il punto d'innesto tra famiglia e scuola e società civile e ha il compito di portare avanti un'educazione già avviata nella famiglia. La famiglia è la nostra prima educatrice, scrive Gentile, e la scuola è la continuazione della famiglia in un altro ambito, potremmo anche dire, è la continuazione della famiglia nella sfera propria della società civile. I nostri figliuoli, dice Gentile, sono noi stessi, la nostra stessa anima, la nostra personalità, educando loro educhiamo noi stessi. Per educar loro dobbiamo creare di continuo, giorno per giorno, noi stessi, la famiglia come la nostra umanità. E poi vi è un passaggio molto bello sull'importanza della scuola per uno stato degno di questo nome. Scrive Gentile, Lo Stato non si restaura se non si restaura la scuola. La scuola non si può restaurare se non si restaura la famiglia. E nella famiglia l'uomo, che è la sostanza della famiglia, della scuola, dello Stato. Vi è qui in nuce tutto l'umanesimo del Gentile, che pone al centro lo Stato come motore di sviluppo dell'umanità, ma lo Stato è a sua volta uno Stato nella misura in cui valorizza la scuola come elemento educativo, formativo, di formazio letteralmente alla maniera latina, cioè di dare una forma a una materia di per sé grezza, come può essere il marmo per lo scultore, e il docente, come anche Gentile viene spiegando nel suo sommario di pedagogia, il docente deve educare il discente formandolo a essere cittadino consapevole dello Stato. Ma allo stesso modo, se è vero che non vi è Stato senza scuola, nemmeno vi è scuola senza famiglia, dice Gentile. Ecco perché è importante valorizzare la famiglia come prima cellula dell'eticità, per dirla hegelianamente. E la famiglia a sua volta non ha, se non come cuore, l'uomo stesso, inteso non come maschio evidentemente, ma come essere umano in senso pieno. La famiglia implica la presenza di maschio, femmina e prole, potremmo dire, parafrasando Hegel, ancora prima di Gentile. Ecco perché la famiglia è il cuore stesso della vita pubblica, non vi è Stato senza scuola, ma non vi è scuola senza famiglia, non vi è famiglia senza l'essere umano, inteso come soggetto da formare. Dice ancora Gentile che occorre valorizzare la famiglia, dunque anzitutto, come base per uno sviluppo della scuola e da lì anche dello Stato. Scrive Gentile, restaurare la famiglia è per me appunto restaurare questo sentimento religioso della vita, riformare l'uomo di dentro, fargli sentire quando si avvia fuori dalla famiglia, nella scuola, nella vita sociale, nella vita pubblica, che c'è un ideale, una legge che aderisce alle nostre più intime fibre, che fa tutt'uno con la nostra stessa anima, che sta lì alla radice della nostra personalità. Una legge alla quale non possiamo dir di no senza rinunciare a noi stessi, senza scrollare di dentro al nostro petto la base del nostro stesso essere e di tutta la nostra dignità. Ecco, credo siano considerazioni importanti da riprendere oggi, nell'odierno tempo della disgregazione dello Stato, della scuola, della famiglia e dell'uomo, queste considerazioni di Giovanni Gentile improntate a un egelismo radicale, un umanismo strepitoso, che pone al centro l'uomo, la famiglia, la scuola e lo Stato come momenti di un'eticità, altresì intesa come libertà di tutti e di ciascuno, o più precisamente come libertà di una comunità abitata da uomini ugualmente liberi.